Allora Luca sei al Palapanini prima di ripartire per gli europei però facciamo un passo indietro Coppa del Mondo con un grandissimo risultato da parte di un gruppo che si è dimostrato davvero di altissimo livello Sì direi che si è concluso tutto nel migliore dei modi, è stato un torneo lungo e bello faticoso In un Giappone bello lontano in cui abbiamo avuto tre tappe tra città con squadre tutte difficili senza poter lasciare neanche un set Tant'è vero che abbiamo vinto di 3-4 set alla fine e il divario e le vittorie erano le stesse Veramente soddisfatti e comunque l'ultimo giorno è stato un po' un grandissimo entusiasmo, grandissima magia Trovarsi primi o secondi a random e poi comunque a guardare l'ultima partita con l'America in cui hanno vinto eppure veramente contenti Il pensiero va subito a Rio però non hai nemmeno il tempo di pensare a Rio perché a brevissimo tra due giorni si riparte da Busto Per gli europei ancora in nazionale e poi si arriverà vicinissimi al campionato Sì, Rio è un nome remoto e quindi uno step alla volta, il prossimo nome sarà appunto Torino e poi Sofia Dopodiché appunto subito Modena, sarà un bel campionato pieno di date, speriamo tantissime partite belle da vedere, belle da giocare E appunto un po' col corpo martoriato però con tanta energia e speriamo di trovare un bel percorso step dopo step E arrivare il più strani possibili prima di tutto a Natale e poi ci penseremo Modena che parte con tante altre squadre di altissimo livello, il fatto di avere partite così ravvicinato può essere un problema naturalmente Sia per Modena che per gli altri, possono trarre in vantaggio anche le squadre fra virgolette minori? Sì, posso azzardare che potrebbe avvicinarsi a un campionato quasi estivo appunto tra nazionali in cui ci sono partite vicinissime l'una all'altra In cui c'è poco tempo per prepararle e subito al momento giusto la concentrazione sia da una parte che dall'altra Favorite e sfavorite sulla carta a trovare il risultato Quindi speriamo non ci siano troppe sorprese da parte nostra e speriamo che il gruppo faccia partire il meccanismo fin da subito E non saprei dirti se potrà essere uno svantaggio o un vantaggio In ogni caso sarà un po' a nostro compito, a nostra forza trovare durante la partita l'allenamento tra virgolette E quindi il carisma necessario per riuscire a vincere Il pubblico di Modena come sempre risponde alla grande, la campagna abbonamenti che sta andando molto bene Anche il prossimo anno ci sarà un palapanini che potrà fare la differenza Sì, abbiamo visto l'anno scorso comunque l'esordio gigantesco fin da subito Poi tutta la scia durante il campionato, comunque dell'affetto e dell'esserci sempre vicini E speriamo di ripartire da dove ci siamo lasciati appunto E trovare sin dalla Supercoppa e comunque dalle prime partite di campionato Il medesimo entusiasmo, la medesima energia e tutto il palapanini pieno